amici di chizzo bentornati beh tanto intanto siamo a casa nostra siamo a casa di honor con pier giorgio furcas ciao giorno buongiorno a tutti buongiorno buongiorno a te posso chiamarti pigi anche se siamo assolutamente sì no no pigi va benissimo perché così è come mi conoscono tutti quindi va benissimo per gli utenti finali va benissimo per i tuoi fan va benissimo per i partner commerciali va bene per tutti grazie mille grazie mille perché il tuo nome è vero piangioglio pochi 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 lo sanno tu sei commercial director di honor che è insomma una carica molto importante e sei colui che è sempre sul campo ha in mano la realtà ha in mano il come questo brand sta sviluppando nel nostro paese ecco come si sta sviluppando questo brand nel nostro paese perché tu sei in sera al cavallo ormai da un anno e è cambiata molto il modo in cui l'azienda si propone sulla sul sul mercato è cresciuta molto si è molto sviluppata e ha anche una un diverso modo di approccio diciamo anche nei confronti dei consumatori e di aggrega sei contento lavoro che hai fatto finora e come lo svilupperai ma penso che dopo un anno possiamo stilare un rapporto e penso che honor abbia dimostrato di essere una grande azienda che dell'innovazione ne fa uno dei suoi corvedio è importantissimo per non innovare importantissimo trasferire utenti finale dei prodotti che possono raccontare qualcosa che non si limita banalmente la memoria del telefono piuttosto che ai banalmente megapixel che banali non sono banali non sono lo dimostra il lancio del 6 pro dove abbiamo avuto la possibilità di poter settare una camera che è stata la più premiata della dell'ultimo evento il mobile world congress a barcellona che si è tenuto a febbraio quindi stiamo lavorando tantissimo sull'innovazione siamo convinti che l'utente finale nel momento in cui fa le scelte va a vedere esattamente che tipo di proposizione viene viene fatta da parte delle aziende e noi stiamo lavorando tantissimo il mobile world congress è stata la dimostrazione abbiamo avuto una un eco veramente importante tantissime persone si sono fermate allo stand per guardare il lancio non solo del magic 6 pro ma anche di rivedere il foldable probabilmente l'unico vero foldable del del mercato per vedere anche la sua versione porsche design che comunque è discretamente stilizzata poi con delle piccole caratteristiche tecniche ovviamente lo differenziano dalla versione normale ma che ovviamente esalte il nome di porsche design e con questo messaggio noi vogliamo trasferire l'utente finale un'azienda che dà tanto valore all'innovazione e sicuramente ce n'è ancora tanto bisogno in virtù anche della dell'intelligenza artificiale che fra un po e spero travolgerà tutti tutti i benefici che la stessa potrà potrà darci è chiaro che per farlo bisogna che sotto ci siano dei prodotti in grado di poterla sfruttare questa intelligenza artificiale e quindi non è solo una questione di software non è una questione di cloud dove andare a prendere l'intelligenza artificiale è anche la necessità di avere dei prodotti che siano in grado di poter far sì che la stessa possa esprimersi al massimo nei benefici che darà l'utente finale tra l'altro parlando di intelligenza artificiale io l'ho appena ricevuta arriverà sugli utenti nel corso dopo pasqua verso l'8 aprile verso l'8 aprile e ha veramente cambiato molto modo di usare il telefono perché l'ha portato un nuovo livello ora il 6 pro è stato il momento club del vostro cammino a mobile congressi 2004 di barcellona ma la cosa che mi ha impressionato a parte le caratteristiche tecniche che per la prima volta un telefono ha ricevuto cinque coccarde d'oro da dix o mark ed è il momento in cui parliamo il miglior camera fa un sul mercato ecco questo è un vanto è una cosa di cui siamo veramente orgogliosi e non è altro che la risposta alla domanda che mi hai fatto prima sul corveglio di questa azienda l'innovazione tecnologica l'innovazione tecnologica vorrei dire a tutti i tuoi fan i tuoi spettatori tutti i tuoi utenti che ti guardano luca che l'innovazione tecnologica costa e purtroppo bisogna bisogna fare degli investimenti importanti per far sì che il prodotto faccia la differenza questa è una cosa sulla quale honor non transisce cioè noi andiamo avanti su quella strada cercare di portare fuori dei telefoni dalla cina perché ho trovato il prodotto a 99 euro e quindi acquisisco quote di mercato ecco non voglio screditare nessuno non voglio parlare della politica commerciale degli altri non ne facciamo un altro non lavoriamo sulla fascia medio medio alta e di questo ce ne vantiamo perché perché investiamo tantissimo in arrendì e il v2 e il 6 pro ne sono una dimostrazione lampante allora questo che c'è in mano il v2 che effetto fa avere in mano il mio foldable sul mercato il vero foldable ma questo non me ne vogliono i concorrenti però voglio dire questo è l'unico vero foldable oggi presente sul mercato abbiamo fatto il lancio sul mercato italiano da circa due due mesi posso dire senza poter certificare i dati che siamo i leader incontrastati in questo segmento di mercato parlo del puro foldable non parlo dei flip che tra l'altro non abbiamo ma che verosimilmente dovrebbero vedere la luce in un prossimo futuro che stanno ancora valutando se è necessario se l'utente finale veramente apprezza questo prodotto quindi nel momento in cui abbiamo chiuso il cerchio probabilmente se la chiusura positiva lancieremo anche noi flip questo è l'unico vero foldable del mercato è il leader incontrastato non parlo solamente di tecnologia parlo anche di vendita perché oggi abbiamo riscontrato un successo veramente importante è chiaro che per un'azienda come honor era fondamentale poter raccontare il prodotto passando dal fisico passando dalla dal punto vendita fisico e non solo una questione online piuttosto che raccontato con una campagna tv avevamo la necessità di poter utilizzare i negozi fisici e la possibilità di poter utilizzare il presidio che abbiamo sul territorio fatto con i nostri promoter fatto come non tutta la nostra struttura commerciale che è presente all'interno di punti vendita per poterlo raccontare e spiegare perché il prodotto è così bello rispetto agli altri devo essere onesto e devo ammettere che in molti casi non era assolutamente necessario raccontarlo perché il prodotto era già ben conosciuto quindi abbiamo trovato persone che sono andate sui punti vendita e chiedevano appunto del Magic V2 i numeri ci hanno confortato ma la cosa che più mi ha confortato è che non abbiamo rubato quote di mercato al nostro competitor ma abbiamo allargato questa quota di mercato quindi la torta è diventata più grande che poi è la crescita sana vuol dire che probabilmente sul mercato mancava un foldable che potesse soddisfare appieno le esigenze o alcune esigenze degli utenti finali che hanno trovato invece nel acquistare il foldable quindi siamo veramente veramente contenti non è finita qua perché ovviamente questo è un progetto molto importante ma che ha già degli sviluppi e quindi spero che a breve di potervi raccontare gli eventuali sviluppi del del v2 posso dirvi il nome non posso dire che tipo di caratteristiche avrà ma che sicuramente ci saranno degli sviluppi entro l'anno chissà già diciamo che comunque di sviluppi ce ne sono perché del post design che città di prima c'è sia il 6 pro sia il v2 che sono proprio due edizioni se vuoi almeno esteticamente completamente diverse anche poi anche a livello hardware sono state molto carrozzate ma penetrare in questo in questo mondo luxuri quindi proporre un prodotto già già di un certo livello anche anche presentare in alla luxuri ecco secondo te aiuta a far capire che la honor di oggi è un honor molto diversa rispetto a quella che abbiamo intratto conoscere gli anni scorsi per questo è ancora un po diciamo una delle domande che si fanno gli utenti no la honor di oggi è un honor diverso diciamolo beh diciamo che ha cambiato un po il dna rispetto alla honor che gli utenti finali hanno conosciuto da dove invece oggi honor è diventata un'azienda che dell'innovazione del medio dell'alto di gamma ne ha fatto uno dei suoi corvegli più importanti quindi totalmente diversi rispetto agli obiettivi con cui l'azienda si è presentata qualche anno fa no ti ringrazio per aver spiegato bene honor perché ancora oggi c'è un po c'è un po di dubbio e quindi è importante che senti tu stai usando il v2 mi dici tre cose che ti hanno ti hanno impressionato ti hanno esaltato nel tuo uso del v2 ma allora la cosa le due cose che si notano immediatamente nel prendere in mano il v2 questo vi invito a provare ad andare sui punti vendita di elettronica in italia a verificare questa cosa qua che chiuso e alle dimensioni e il peso di uno smartphone normale la cosa impressionante è quando si apre e potete vedere che il prodotto ha uno uno spessore che è veramente incredibilmente fine e la facilità con cui usandolo alcuni direi hai questo gesto automatico no se dovete guardare la posta banalmente se dovete guardare anche whatsapp il foldable prevede praticamente che ho una foto ma prevede che automaticamente ti vanno tutte le chat sul lato sinistro invece la chat che stai guardando ti va sul lato sul lato destro quindi automatico vedi anche gli altri messaggi che che ti possono che ti possono arrivare le mail è chiaro che aprendono apre apre veramente un mondo le stesse le stesse foto quindi a una versatilità che altri prodotti non riescono non riescono ad avere quindi questa è la cosa che mi ha impressionato quindi c'è la possibilità di un utilizzo diciamo sia consumer ma anche professionale ma anche nell'utilizzo consumer guardando dei video quando siete magari sul treno piuttosto che siete in aereo e magari vi state guardando l'ultimo l'ultima serie non faccio nomi di piattaforme l'ultima serie e questo andando su per esempio andando su youtube come potete vedere apprende in automatico viene il gesto che automatico di apertura e di fruzione di un servizio che ovviamente altri telefoni non possono dare certo certo ultima domanda beh v2 chiaramente è un è uno statement nei confronti del del mercato il 6 pro il 6 pro è una pec al mercato come dire ci siamo e siamo arrivati qua non sono meri miglioramenti rispetto a quelle generazioni precedenti sono proprio una rework in totale sono un rework in totale sono degli 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 stravolgimenti che sono necessari quando fai della spingi tantissimo sull'innovazione tecnologica siamo pronti come dicevamo prima con l'intelligenza artificiale quindi la release sul magic 6 pro arriverà l'otto l'ott'aprile poi vedremo anche sugli altri sugli altri telefoni dobbiamo prepararci a questo nuovo questo nuovo mondo io ne sono particolarmente contento perché le possibilità e le potenzialità dell'intelligenza artificiale sono veramente sono veramente tante non bisogna essere spaventati c'è chi si spaventa di fronte a sviluppi dell'intelligenza artificiale in realtà dei fatti invece non bisogna fare questo dobbiamo essere noi bravi aziende a capire come possiamo possiamo supportare l'utente finale non fornire l'intelligenza artificiale in virtù dei bisogni che lo stesso ha e ovviamente con quali supporti diciamo fisici farlo perché tengo a dire che con l'arrivo dell'intelligenza artificiale c'è una sorta di rivoluzione copernicana siamo stati abituati a vedere o a farci raccontare il telefono al centro di tutto un ecosistema probabilmente adesso il telefono con l'arrivo dell'intelligenza artificiale uscirà da questo ecosistema anche lui andrà a far parte degli altri prodotti nel cerchio e al centro vedremo l'intelligenza artificiale che magari la persona stessa la persona stessa finalmente la passiamo da utilizzare l'intelligenza artificiale dei benefici dell'intelligenza artificiale poi a seconda dei nostri usi abitudini vedremo con quale prodotto abbinarla poi sono le buzz posso essere il telefono questa è la tv parliamo solo di telefonia può essere anche la tv magari sulle lavatrici aspetteremo un po magari sulla tv magari è pronta anche dei benefici e io ho visto alcune elaborazioni di intelligenza artificiale credetemi sono veramente impressionante impressionante senti insomma una chiosa che che hanno chiamati aspetto ma mi aspetto un anno come quello dell'anno scorso di crescita continua e costante sostegna bene sostenibile perché ovviamente deve essere eco sostenibile se no noi non riusciamo a pagarci l'innovazione tecnologica e ovviamente il prezzo comunque deve essere in linea con le possibilità degli ottimisti finali. Pigi grazie infinito. Grazie a te, grazie a voi.